Lo speaker XF1800KB di Trevi è un altoparlante amplificato con trolley della linea XFest, appositamente studiato per l'intrattenimento ad alte prestazioni. XFest 1800 ha due ingressi per microSD e USB, ha la radio FM, la connessione aux-in e un impianto sonoro con bass reflex a tre vie e subwoofer. Con la funzione Bluetooth potrai connetterlo senza fili con smartphone, PC e tablet. Grazie al microfono incluso, insieme ai tuoi amici, potrai divertirti a cantare con la modalità karaoke. Con XFest XF1800KB puoi divertirti al massimo, grazie alla batteria ricaricabile dalla lunga durata. Potrai portarlo ovunque vorrai e animare magnificamente ogni serata. Grazie a tutti i nostri amici.